ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andremo insieme a vedere come realizzare questo meraviglioso motivo trafolato con effetto 3d che ci permette andare a recreare dei rombi davvero molto belli è un motivo che si presenta a due lati da davanti si presenta appunto con questa riproduzione dei rombi e dall'altra parte si presenta con un altro motivo a sua volta in cui ci sono messi in evidenza le maglie a rasato noi abbiamo realizzato dei campioncini sia con un filato di lana sia con il cotone per appunto farvi vedere che è un motivo che si lavora bene con entrambi i tipi di filato e si adatta bene per entrambi perciò è un motivo che possiamo andare ad adattare per i progetti di tutte le stagioni e va benissimo per la realizzazione dei cardigan dei maglioni di dei progetti invernali estivi cappellini che è molto bello il nostro motivo è un multiplo di due maglie e di due ferri ma noi nel tutorial ne andremo a vedere quattro ferri perché vi vogliamo far vedere anche come recreare l'effetto scacchiera per l'avvio andiamo a avviare le nostre 15 maglie andiamo a lavorare con un numero dispari delle maglie per riuscire avere dei motivi finiti nonostante che si tratti di un motivo a numero pari partiamo quindi con la lavorazione del nostro primo ferro la maglia di vivagno la spostiamo e tutte le successive maglie del primo ferro le andiamo a lavorare a diritto semplice ecco abbiamo fatto il nostro primo ferro del motivo lavorato tutto a diritto anche il secondo ferro andrà lavorato tutto a diritto ma con una lavorazione particolare la maglia di vivagno spostiamo ecco la nostra prima coppia la prima coppia la prima maglia della coppia partiamo subito con una lavorazione particolare dobbiamo andare a lavorare una maglia a diritta ma nell'asola sotto quindi non facciamo quella sul ferro ma entriamo nell'asola sotto in questo modo come viene illustrato ora entriamo sotto nell'asola e ricaviamo una maglia a diritto la seconda maglia della coppia la lavoriamo a diritto normale di nuovo la prima maglia della coppia va lavorato entrando nell'asola da di sotto ricaviamo una maglia a diritto e la seconda maglia della coppia va lavorata a diritto normale e così per tutto il ferro e per tutte le maglie che avremo in disposizione per la nostra lavorazione nel campioncino ovviamente vediamo un numero ristretto ma anche per un qualsiasi progetto grande va lavorato così a coppia di cui prima maglia della coppia va lavorato dall'asola sotto e questo il ferro numero due del nostro motivo ed ecco qui così si presenta subito dopo primi due ferri e il motivo praticamente è finito ci sta già creando dei rombi ma ora andiamo a vedere anche come sfalsarli creare l'effetto scacchiera quindi il nostro ferro numero 3 va lavorato lo stesso identico modo del ferro numero 1 quindi tutte le maglie a diritto normale la male di vivani spostiamo successivi lavoriamo a diritto normale ed ecco che possiamo partire con il ferro numero 4 che andrà lavorato nello stesso identico modo del ferro numero 2 ma convertiamo i posti quindi la prima maglia della coppia andrà lavorato a diritto normale la seconda maglia della coppia andrà lavorato dall'asola da di sotto invece nel secondo ferro eravamo partiti dalla prima maglia della coppia con la lavorazione da di sotto quindi è questa unica differenza perciò è facilissimo da fare quarto ferro si lavora con la stessa identica tecnica del secondo ferro ma scambiamo i posti delle maglie quindi partiamo dalla seconda e non dalla prima e così andiamo a alternare ed ecco qui dopo il quarto ferro possiamo dire che abbiamo visto tutti i passaggi per realizzare questo meraviglioso motivo con l'effetto 3d ora non dobbiamo fare altro che andare portare avanti alternanza di questi quattro feri applicandolo per il nostro progetto ed ecco qui guardate che bellissimo effetto che si realizza dopo che abbiamo portato avanti per alcuni centimetri la lavorazione alternanza di questi quattro feri guardate che con ogni filato è sempre bello e crea questo effetto a rilievo davvero molto bello nonostante la semplicità di lavorazione di questo punto creiamo un punto davvero molto valido speriamo che questo tutorial vi è piaciuto che sia stato chiaro ed utile se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissime altre novità in arrivo e non dimenticate attivare la campanella per vedere appunto i nuovi tutorial quando escono grazie a tutti al prossimo video tutorial